buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì primo aprile 2022 primo aprile un giorno fatidico inizia un nuovo mese ma anche un mese diciamo così primaverile quindi iniziamo con la speranza che i problemi specialmente quelli che coinvolgono il caro vita che coinvolgono la guerra che coinvolgono la pandemia si risolvano al più presto con questa speranza iniziamo anche questa giornata primo aprile è la giornata degli scherzi una volta vi si facevano molto di più di quanto se ne fanno oggi comunque il pesce d'aprile è sempre un riferimento specialmente per i ragazzi per i bambini vediamo ora qual è il santo del giorno iniziamo sotto la sua protezione è santugo di grenoble fu un canonico nella cattedrale di valenza poi nominato vescovo dal concilio di avignone del 1080 combattè i vizi del clero amava la solitudine e prove e provò a ritirarsi a vita privata ma il papa lo rivolle in mezzo ai suoi fedeli in considerazione del gran bene che operava santugo di grenoble insomma con con lui e iniziò l'anno il nuovo millennio ovvero il l'anno mille vediamo anche le previsioni del tempo questa mattina il tempo si mantiene nuvoloso una giornata instabile con piogge intermittenti su tutta la regione piogge alternate ad ampie schiarite in serata piogge più diffuse in modo particolare sulle zone montuose sugli appennini e il vento spirerà da una direzione di sud ovest sull'interno invece da ost da ovest sud ovest le temperature sono in calo comunque si aggirano sono temperature miti insomma la primavera comincia a farsi sentire si aggireranno tra i 10 e 15 gradi 10 di minima e 15 di massima le notizie del giorno oggi le leggiamo sul resto del carlino vediamo l'apertura che è dedicata sulla pagina di fano al nuovo elettrodotto che partirà dalla zona di cartoceto diciamo così e si metterà in mare a metauriglia e questa è una delle novità che ieri terna ha annunciato in un incontro che è stato diffuso con il web tramite il web e l'altra novità è quella che la centrale ovvero questo questa struttura di conversione per quanto riguarda la rete verrà istituita a carrara nei pressi dell'attuale centrale elettrica a carrara nascerà la stazione di adriatic link è un altro passo avanti verso la realizzazione di questo elettrodotto sottomarino l'avvio dei lavori è previsto per il mese di settembre ottobre del 2025 dunque due punti importanti l'accesso al mare sarà a metauriglia la centrale sarà a carrara ed è coinvolto anche il comune di cartoceto perché carrara è due passi da ponte murello quindi ci sarà una ripercussione anche in questo comune dato che la centrale si estenderà su una superficie di ben sei ettari una superficie considerevole ieri sono intervenuti nell'incontro organizzato sul web da terna anche il sindaco di fano massimo seri e il sindaco di cartoceto enrico rossi in ballo ci sono anche le opere compensative perché quando si fanno interventi di questo genere le comunità devono essere risarcite in senso lato dai disagi che appunto i lavori provocheranno e per quanto riguarda fano una delle opere compensative più importanti sarà l'interramento dell'elettrodotto che ora porta l'energia attraverso l'itinerario dell'interquartieri fino a san lazzaro alla centrale ferroviaria che è in viale piceno dunque un guadagno dal punto di vista ambientale molto molto così gradito per quanto riguarda i fanesi cambiamo argomento e parliamo di verde pubblico la città mappa il verde pubblico un progetto pilota dell'agenzia spaziale lo ha annunciato in consiglio comunale l'assessore barbara brunori mappatura del video fano tra i progetti pilota finanziati dall'agenzia spaziale europea addirittura il nostro progetto è stato scelto dall'esa ha annunciato la brunori insieme alla città di milano firenze roma pescara e san benedetto si parla di un progetto da 120 mila euro l'abbiamo già così accennato nella giornata di ieri quando abbiamo parlato di scheda per ogni singola pianta per quanto riguarda i tagli la manutenzione e tutte le cure che deve essere oggetto appunto un albero giriamo la pagina sul sempre sul resto del carlino e vediamo un altro articolo importante che oggi riportano i giornali quello della firma tra l'assessore delle infrastrutture della regione Marche Francesco Baldelli e il sindaco di Fano finalmente è stato trovato un accordo per quanto riguarda la pista ciclabile del Metauro la ciclovia del Metauro che non verrà più realizzata accanto ai binari della ferrovia ma verrà realizzata secondo il progetto già predisposto dalla regione che si discosta un po' dalla ferrovia e trae in uso anche tratti della mobilità esistente saranno oltre 5 chilometri i tratti nelle comune di Fano siglato il protocollo d'intesa per la realizzazione l'assessore Baldelli un modello innovativo per il territorio ha dichiarato insomma il futuro è quello di creare una sinergia con la regione Umbria perché poi il percorso prosegua una volta che è arrivato insomma ai confini della regione perché poi la pista del Metauro si prolunga verso appunto l'Umbria Election Day, tre comuni al voto il 12 giugno sono terre roveresche, Tavoleto e Frontino andranno le urne per le elezioni amministrative la data ufficializzata dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno il Consiglio dei Ministri infatti ha ufficializzato ieri la data delle elezioni amministrative che nella provincia di Pesaro e Urbino riguardano tre comuni spunto sono quelli che abbiamo detto per 5.200 residenti il più grande del terzetto è Tavoleto con 860 abitanti il giorno stabilito è quello di domenica 12 giugno e si tratterà di un vero e proprio Election Day perché oltre a votare per i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali i cittadini saranno chiamati ad esprimersi anche per i referendum che riguardano la giustizia e poi dobbiamo rendere conto di una maxiprotesta di una protesta direi originale quella che ha intavolato questo residente di Via Trave si tratta di Giorgio Franceschini che ha raccolto tutti i pezzi delle auto che ci sono scontrate contro i cordoli delle strettoie che sono state realizzate dall'amministrazione comunale per indurre gli automobilisti a moderare la velocità ebbene la velocità non si modera le macchine procedono a forte andatura e poi vanno a sbattere contro le isole che restringono la carreggiata e perdono i pezzi perdono i cerchioni perdono gli specchietti quando magari passano con le auto che provengono nel senso opposto perdono i pezzi di paraurti insomma veramente una stesa di reperti qui molto molto significativi per quanto riguarda il fatto che appunto questi ristringimenti non hanno risolto il problema della velocità e quello che chiedono i residenti è quello della installazione di videocamere che possono appunto certificare le infrazioni e poi possono multare appunto chi non si adegua alle regole del codice della strada Maxi protesta su 11 meli contro la carreggiata ristretta in via della trave sottopasso ancora chiuso a Marotta scatta la polemica l'ha inscenata il consigliere di minoranza Anteo Bonaccorsi che lamenta il prolungarsi del disagio a carico dei cittadini il sottopasso non è percorribile perché occorre riparare una lesione ad una trave di sostegno del ponte casata da un camion che l'ha urtata violentemente con la sua parte anteriore e quindi i lavori in questo caso si prolungano e ritardano a Urbino il PD all'attacco sulla gestione della cultura sono stati scambi determinati di opinione roventi con il sindaco Gambini il quale annuncia che per Federico il Duca Federico faremo eventi per un intero anno dal 7 giugno ebbene gli eventi urbinati per le celebrazioni federiciane dopo quelli di Raffaello anche quelle del Duca Federico sono una manifestazione importantissima partiranno nella settimana che precede il compleanno del Duca e dureranno da giugno del 2022 a giugno del 2023 lo ha annunciato il Consiglio Comunale il sindaco Gambini rispondendo ad una interrogazione del PD e di Viva Urbino che avevano chiesto notizie sulle iniziative comunque le critiche sulla gestione della cultura evidenziate appunto dall'opposizione si riferisce al fatto che non è stato tenuto in conto nel 2021 dell'anniversario di Guido da Montefeltro poi di Dante e anche quello di Papa Albani domenica scorsa poi durante la giornata di primavera organizzata dal FAI lo IAT era addirittura chiuso con tutto l'afflusso di turisti che è avvenuto a Urbino insomma mancava l'ufficio informazioni e questo forse è una carenza importante veniamo anche alla pagina di Pesaro del resto del Carlino dove si evidenzia la manifestazione che il Partito Democratico ha organizzato a sostegno dell'ex primario del pronto soccorso Umberto Gnudi Gnudi ammaina la bandiera non è Grudi e Gnudi il PD la alza per lui se ne va un grande e l'ospedale perde i pezzi c'è stato un drappello ieri davanti al pronto soccorso del San Salvatore e non c'è stata però la contro manifestazione organizzata da Umberto Carriera di Io Apro che aveva annunciato appunto una manifestazione con un obiettivo diverso quello appunto di criticare Gnudi e non di lodarlo un drappello davanti al pronto soccorso il segretario comunale Bellucci dice non è una battaglia personale ma per risolvere problemi concreti problemi che vengono attribuiti alla regione per quanto riguarda una carente gestione della sanità e poi c'è stato l'abbraccio dei colleghi di Gnudi tra le lacrime dell'ex primario che se ne va Ho avuto, ha dichiarato solo il merito di guidare un gruppo meraviglioso sì, siete stati veramente eroi insomma ma poi vedremo qual è la sorte che si riserva per Gnudi almeno per quanto riguarda le voci di Corridoio Ferrovia nel progetto la stazione è sopra elevata si parla dello spostamento della Ferrovia di Pesaro che ha lasciato al momento in braghe di tela quella di Fano ecco alcuni dettagli dell'elaborato varato dal Ministero il tratto nuovo è lungo 19 chilometri e quasi 8 saranno in viadotto dunque 19 chilometri la nuova ferrovia arretrata per quanto riguarda Pesaro di cui 7,85 saranno in viadotto cioè sopra elevato anche la nuova stazione di Pesaro prevista all'altezza della motorizzazione civile sarà in viadotto cioè sopra elevata sono questi alcuni dei dettagli del bypass ferroviario che sposterà i binari alle spalle della città comunque vediamo che la Regione in questo caso si è posta strenuamente alla difesa di Fano siamo irremovibili nella tutela di Fano la Regione annuncia le barricate l'esclusione dell'arretramento accende lo scontro e c'è il nodo del passaggio a Fosso Seore insomma Fano non può restare fuori di questo progetto perché veramente se l'arretramento della ferrovia si farà a Pesaro poi ne risenterà tutta la costa fanese e sull'arretramento della ferrovia adriatica la Regione si schiera a difesa di Fano Regione è assessorato alle infrastrutture ha detto con chiarezza l'assessore Baldelli saranno irremovibili nella tutela della città della fortuna e degli altri comuni esclusi dal progetto come per esempio il comune di Mondolfo è ancora dichiarato serve una visione che valorizzi il territorio e i trasporti la Regione non potrà mai autorizzare un progetto che danneggi una parte dei comuni insomma una buona una buona difesa per quanto riguarda appunto una buona una volta tanto la città di Fano rapinata nel sottopasso dei capucini sono terrorizzata dichiarato la donna che ha subito questa grave azione da parte di cinque minorenni che frequentavano appunto la zona sono terrorizzata e ora passo altrove e ieri c'è stata una manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia era presente anche il consigliere regionale Nicola Baiocchi appunto per richiedere un intervento più incisivo da parte delle forze dell'ordine forse anche dell'amministrazione comunale per rendere la zona dei capucini più sicura e quindi sgombra da bande di malintenzionati il sorriso dei bimbi ciechi fuggiti dalle bombe chi c'è più persona fragile di un bimbo cieco che è costretto a fuggire perché nel suo paese scoppia la guerra ammazzano i civili piovono le bombe sono tra i 30 profughi sono due ragazzi tre ai 30 profughi accolti nelle scuole della provincia ma per loro due lo sciocche doppio qui hanno trovato solidarietà vera Mattia Elisa la nuova vita inizia alla Gaudiano di Pesaro e qui vediamo questi ragazzi che sono stati accolti dalla città di Pesaro e poi il resto del Carlino evidenzia un problema che un po' si trova in tutti i porti del nostro territorio quello dell'insabbiamento appunto delle darsene qui ci possiamo piantare gli ombrelloni ha detto ironicamente qui coloro che frequentano il porto le barche scappano dal porto insabbiato allarme per i fondali sarà uno dei temi al centro del confronto con Vincenzo Garofalo che è il nuovo presidente dell'autorità portuale occorre dragaggio un po' dappertutto covid lieve risalita dei ricoveri ed ecco cosa cambia da oggi con la fine dello stato di emergenza oggi cambia molto per quanto riguarda la normativa anti covid spariscono molte delle regole da seguire ma non tutte e il resto del carlino fa un po' il quadro di quello che cambia per esempio per quanto riguarda il lavoro per accedere ai luoghi di lavoro basta il green pass vaccinazione test negativo guarigione abolita la sospensione per chi non è vaccinato resta comunque la multa e per andare al ristorante il decreto prevede che da oggi cada l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto per bar ristoranti pub pasticceria al chiuso serve comunque il certificato verde base quello base non il super green pass e poi vediamo le disposizioni per quanto riguarda i trasporti i servizi pubblici negozi stadi e palazzetti luoghi della cultura e poi anche la scuola quello che accade quando uno degli studenti o più di uno diventano positivi filmato mentre picca il cane dovrà pagare 5.000 euro di multa aveva fatto pipì dove il padrone non voleva e il padrone si tratta di un sessantenne pesarese se l'è presa con questo cucciolo di cane lupo gli ha dato un calcio addirittura sul muro ma è stato videato filmato da un vicino di casa il quale era un ragazzo ha consegnato i genitori i genitori lo hanno denunciato ed ora è stato così condannato a pagare 5.000 euro di multa i suoi avvocati però hanno preannunciato ricorso e a questo punto siamo tornati alla pagina di Fano quindi la pagina di Fano la continuiamo a leggere sul Corriere Adriatico ed ecco si parla della ciclovia del Metauro patto firmato ora passiamo dalle parole ai fatti così l'assessore regionale Balvelli ha chiuso le polemiche polemiche che hanno furoreggiato per diverso tempo tra chi voleva la pista ciclabile nei pressi dei binari e chi invece la voleva lontano dalla ferrovia per non guastare il progetto di un possibile ripristino della ferrovia stessa così l'assessore Balvelli chiude le polemiche infrastruttura modello il sindaco seri gioco di squadra insomma il sindaco ha fatto buon viso a cattivo sorte e ha firmato appunto questo progetto che comunque è un progetto che darà inizio a una pista quindi un attrattore turistico di notevole importanza per le norme è impossibile la pista sulle sedime della ferrovia infatti anche i tecnici delle ferrovie dello Stato hanno dato un parere contrario Adriatic Link a Metauriglia la prodo a Carrara la stazione di conversione ieri Terna ha comunicato via online le scelte per l'allestimento dell'elettrodotto sottomarino e poi anche il Corriere Adriatico evidenzia i pezzi delle auto che passano per via trave non rispettano i limiti di velocità e vanno a cozzare contro i cordoli delle isole del ristringimento della carreggiata singolare iniziativa in via trave i dissuasori della velocità vengono considerati inutili e pericolosi meglio le telecamere e le multe e poi una una importante decisione assunta dall'ultima seduta del Consiglio Comunale di Fano quello di approvare una mozione firmata dal gruppo consigliare dei 5 Stelle i quali hanno proposto il bilancio partecipato un bilancio che consenterà ai residenti dei quartieri di proporre all'amministrazione comunale delle scelte da finanziare insomma saranno i cittadini stessi che diranno al Comune con i tuoi soldi mi costruisci questa struttura questa infrastruttura mi dai questo servizio per le opere finanziate dal bilancio anche i cittadini sono protagonisti e qui vediamo il relatore della mozione Giovanni Fontana è la presidente della commissione consigliare del bilancio Cora Fattori Nuova Cop è uno dei sottopassi entro l'estate l'impegno chiesto da Fanesi all'impresa per superare statale ferrovia verso il mare la nuova cop si sta costruendo in viale Piceno dove passa la statale Adriatica è un'area importante che si trova tra la statale e il mare e quindi occorre un sottopasso la ditta che realizza l'opera che realizza il Capanone si è impegnata a fare questa opera di urbanizzazione e il vice sindaco Cristian Fanesi l'ha chiesta che venga realizzata entro l'estate insomma un servizio in più per consentire ai cittadini soprattutto di villa uscenti di raggiungere il mare a Fossombrone Sanità Alvia la ripartenza riordinati i servizi fruibili chiarimento tra il sindaco e la giunta regionale è stata fatta visita a Fossombrone dal presidente della regione Acquaroli con la direttrice dell'Azur riorganizzazione dell'ambulatorio di continuità assistenziale primaria per quanto attiene la gestione degli operatori e poi ancora la qualificazione organizzativa del comparto radiologico funzionalità generale legata al territorio di competenza il rispetto di altri contesti come un'intesa operativa tra amministratori comunali e personale dell'ospedale di comunità e altre esigenze sono state appunto accolte dalla regione tramite questa visita che Acquaroli ha fatto all'ospedale di Fossombrone a terre roveresche primo bando per il recupero degli immobili abbandonati un'iniziativa innovativa attuata dal sindaco Antonio Sebastianelli disponibili due strutture per il riuso si tratta di un immobile che si trova a San Giorgio di Pesaro e di un altro a Rupoli la scadenza delle domande per partecipare al bando è fissata per il 21 aprile e poi sulla pagina di Senigallia vediamo vediamo che ecco che si parla della sentenza per quanto riguarda il giudizio sulla lanterna azzurra tutti i colpevoli sono stati dichiarati dal tribunale di Ancona ed è una bomba pronta ad esplodere sette condanne e due patteggiamenti per i proprietari del locale i gestori e gli addetti alla sicurezza nei riti abbreviati la condanna più pesante è stata inflitta dal GUP Francesca De Palma a Marco Cecchini il DJ del locale giudicato dalla procura co-gestore fatto dell'evento che avrebbe dovuto portare a Corinaldo Sfera e Basta cinque anni di reclusione e un mese di arresto per l'omicidio colposo plurimo nell'imputazione sono compresi anche le lesioni colpose riferibili a circa 200 persone tutte quelle che poi si sono così sono addossate nella calca che si è verificata all'uscita del locale è il disastro colposo gli stessi reati hanno portato alle condanne degli altri imputati e sul giornale uno per uno vengono evidenziate appunto le condanne che sono state combinate dal giudice e poi ancora a Senigallia nel PC 2500 files di sesso con minori una leggerezza non è un pedofilo ha dichiarato l'avvocato difensore è già libero il 53enne arrestato per pedopornografia informatica illegale ha solo scaricato video per mera curiosità comunque è stato condannato a un anno e quattro mesi con sospensione della pena il computer è stato sequestrato un'occhiata anche alla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico dove si inizia con la manifestazione organizzata a sostegno di Gnudi grazie Gnudi siamo con te ma il bersaglio comunque delle critiche organizzate dal Partito Democratico e la Regione qui si sta distruggendo la sanità il PD scende in piazza megafoni e cartelli per denunciare le troppe disfunzioni disfunzioni che hanno portato alla rinuncia di molti medici del pronto soccorso c'erano all'inizio 38 medici ora ne sono rimasti soltanto 17 e poi si parla anche qui della manifestazione di Fratelli d'Italia che ha organizzato per reclamare maggiore sicurezza nella zona dei Cappuccini sotto passo della paura fallimento del comune al flash mob di Fratelli d'Italia anche la donna vittima dell'ultima rapina ai Cappuccini e qui vediamo una sua fotografia con il volto sbigottito ancora pauroso per quanto avvenuto lungomare come un maxicantiere l'ospitalità punta tutto sul restyling dal Bristol all'Ambassador al Bellevue al Nostrano un fermento di lavori di riqualificazione gli alberghi si fanno il look per prepararsi alla prossima stagione turistica hotel e alberghi tra bonus facciate e interventi interni alcuni rimandano l'apertura a giugno appunto per prepararsi nel migliore dei modi a questo appuntamento ebbene con questa notizia noi concludiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi augura una buona giornata e vi do appuntamento a domani alle ore 7 a risentirci a domani 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 Grazie.